Considera ogni giorno un dono della vita e sarai donna con l'infinito del cuore. 8 marzo 2005 È stata una donna importante per la comunità, non ho avuto il piacere di conoscerla personalmente. Chi l'ha conosciuta parla di una donna di una grande generosità e di sensibilità. Ho sempre sentito parlare di lei, di questa figura, di questa donna che è stata da prima insegnante e poi una poetessa per tutti. L'idea di intitolare il parco è partita l'estate di un paio di anni fa, in occasione di una delle nostre buone notti, quando Roberto Rossi, presidente della Montsabatis, ha lanciato l'idea di intitolare un luogo a questa donna, a questa poetessa. Abbiamo subito pensato cosa fare, perché l'idea ci è piaciuta, apprezzata, e appunto oggi, in occasione dell'8 marzo Festa della Donna, abbiamo intitolato questo parco, un luogo di incontro per giovani, un luogo di incontro per famiglie. Abbiamo scelto di installare questo totem all'ingresso del parco, proprio perché chiunque passi qui si lascia ispirare dalle sue parole, venga incuriosito da chi è stata questa donna e possa scoprire qualcosa di più di lei. Grazie a tutti.